Musica Buonasera, benvenuti al riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa, iniziamo con lunedì 3 gennaio. La Sicilia entra in fascia gialla, una misura di contenimento contro il rapido espandersi della nuova variante Omicron. Sono così 10 le regioni italiane in fascia gialla. Da oggi anche la Sicilia è in zona gialla, in tutto 10 le regioni sottoposte alla misura di contenimento contro l'espandersi della variante Omicron, sempre più diffusa in Italia. Adesso sono così 10 in tutto le regioni in giallo. Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino Alto Adige e Veneto. Ad annunciarlo nello Musumeci, presidente della regione, che afferma, anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla. Rispetto a un anno fa, e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani. È tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili. Lo conferma l'aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni. Cambia comunque poco per le regioni in giallo rispetto alla fascia bianca. La differenza fondamentale è l'obbligo di mascherina all'aperto, misura praticamente già prevista in Sicilia e nel resto d'Italia durante le festività natalizie. Si attende invece la decisione del governo sul super green pass nei luoghi di lavoro. Una regola attesa già nei prossimi giorni, che di fatto potrebbe essere quasi equiparata a una sorta di vaccinazione obbligatoria, poiché non sarà più consentito ai non vaccinati di recarsi nei luoghi di lavoro esibendo il tampone negativo senza essere vaccinati. Il commissario per l'emergenza Covid della città metropolitana di Palermo, Renato Costa, invita ad effettuare i tamponi solo su indicazioni precise e non considerarlo invece come un passaporto per fare tutto. Registriamo un aumento di richiesta dei tamponi, nonostante abbiamo aumentato l'offerta, esistono altri drive-in in città, altri ne stiamo facendo. Nonostante questo la gente si sta precipitando a fare il tampone. Vorremmo dare alcune indicazioni. Intanto il tampone non è un passaporto che serve per poter fare tutto. Il tampone va fatto soltanto se ci sono indicazioni precise, se si ha il sospetto di aver avuto un contatto strettissimo con un positivo, se si ha il sospetto di essere positivo, cioè di essere quantomeno sintomatico, di avere qualche piccolo fastidio. Perché se si è vaccinati con tre dosi e non si ha nessuna sintomatologia, il tampone, nella maggior parte dei casi, è assolutamente inutile. Quindi io vi prego, non fate una corsa al tampone che è una corsa inutile, che spreca risorse umane e materiali. Perché il tampone da solo non risolve il problema. Il tampone aiuta a risolvere un problema se noi lo associamo a dei comportamenti corretti. I comportamenti corretti, lo ripetiamo ormai da due anni, sono quelli soliti. L'utilizzo della mascherina all'aperto ma soprattutto al chiuso, aereare i luoghi chiusi dove si soggiorna per più di un quarto d'ora, mantenere un perfetto igiene delle mani, ma soprattutto bisogna evitare gli assembramenti. Gli assembramenti vanno evitati sempre. Noi adesso, pur avendo questo grande numero di casi, siamo protetti dal vaccino, perché il vaccino ci ha messo in condizione di poter offrendere questa nuova ondata di positivi con un numero di ricoveri relativamente basso. Ma questo perché siamo vaccinati. Però noi non dobbiamo perdere tutto il vantaggio che ci siamo presi sul virus. Perché i vaccini ci hanno protetto, ma se noi non assogiamo ai vaccini dei comportamenti corretti, continuiamo a fare circolare il virus e lo facciamo circolare molto di più di quello che dovrebbe fare. Se manteniamo questi comportamenti, abbiamo la possibilità e soprattutto la speranza che continuando la campagna vaccinale, facendo passare questa ondata che secondo noi dovrebbe avere un picco entro metà gennaio per poi cominciare a ridiscendere, se questo avviene stavolta manteniamo il vantaggio che abbiamo preso sul virus, se vacciniamoci, comportiamoci bene, solo così potremo vedere la fine di questo incubo e la fine è la luce in fondo al tunnel. Martedì 4, fondi dell'Unione Europea, l'obiettivo centrato per la giunta musumeci che per il quarto anno consecutivo è riuscita ad impiegare i fondi comunitari senza dover far tornare indietro risorse a Bruxelles. Per il quarto anno consecutivo il governo della regione siciliana ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei fondi comunitari per il 2021. Nei quattro programmi operativi di competenza gli uffici della regione siciliana infatti hanno certificato una spesa complessiva di 969 milioni di euro. Il risultato che abbiamo raggiunto, ha sottolineato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, certifica la bontà del lavoro svolto dal mio governo. Non solo abbiamo evitato di dover restituire all'Unione Europea anche un solo euro, ma siamo riusciti a imprimere un'accelerazione nella spesa dei fondi comunitari. Dall'inizio di questa legislatura il totale delle risorse utilizzate nella nostra isola raggiunge quasi 3 miliardi e 500 milioni di euro, con cui abbiamo finanziato interventi per infrastrutture, politiche sociali, formazione, lavoro, agricoltura, pesca, ambiente e risorse per sostenere migliaia di imprese e cittadini siciliani in difficoltà a causa della pandemia. I numeri dell'economia ci dicono oggi che questo sforzo corale è stato premiato con una crescita del PIL che nel 2021 ha superato il 5% e con un'analoga previsione per il 2022. Voglio ringraziare gli assessori, gli uffici regionali e l'assistenza tecnica per l'impegno e la passione profusi. Con la stessa determinazione, ha concluso il governatore, affronteremo anche questo nuovo anno. In dettaglio, per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'autorità di certificazione ha registrato per il 2021 una spesa di quasi 472 milioni di euro, superando il target di oltre 104 milioni. Anche per le risorse del Fondo Sociale Europeo, l'obiettivo fissato è stato superato di oltre 121 milioni, attestando la spesa del 2021 a quasi 172 milioni di euro. Nell'ambito del programma di sviluppo rurale, nell'ultimo anno sono stati spesi 308 milioni di euro, superando il target previsto di oltre 90 milioni. Oltrepassato di un milione, anche l'obiettivo fissato per il Fondo Europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacultura, con un impiego di risorse negli ultimi 12 mesi pari a circa 17 milioni. Prezzi calmirati per le mascherine FFP2, le farmacie hanno accolto l'invito del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid in Italia. Un momento molto delicato in Italia per il rapidissimo diffondersi della variante Omicron, che ha visto un rapidissimo aumento di contagi e ricoveri. Una situazione che già ha provocato restrizioni in numerose regioni italiane, tra le quali la Sicilia è passata in fascia gialla. A proposito dell'evoluzione della variante del virus, si è tornato a parlare dell'efficacia delle mascherine, quali strumenti fondamentali per evitare il contagio. Consigliato specialmente nei luoghi chiusi, il modello FFP2, che oggi continua ad avere costi superiori rispetto alle classiche mascherine chirurgiche. Sull'argomento è intervenuto il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid in Italia, che ha chiesto una riduzione dei prezzi sui dispositivi di protezione individuale, richiesta accolta da Federfarma, che replica, in questa fase della pandemia, continua a essere determinante il supporto delle farmacie alle istituzioni, per contenere i contagi e rispondere prontamente alle necessità di salute dei cittadini. In quest'ottica, Federfarma ha accolto l'invito del commissario straordinario Figliuolo a praticare un prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 pari a 75 centesimi di euro. Federfarma intende così agevolare l'accesso della maggior parte di persone possibile a un presidio di protezione individuale che, alla luce delle nuove norme varate dal governo, riveste un'importanza fondamentale per poter continuare a svolgere le normali attività quotidiane. Il protocollo d'intesa, sottoscritto oggi tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario e l'Associazione di Categoria, corrisponde agli indirizzi dettati al governo con l'emanazione del Decreto-Legge 229-2021, che all'articolo 3 prevede appunto la stipula di un accordo volto ad assicurare la vendita dei dispositivi di protezione individuale FFP2 a prezzi contenuti. L'adesione da parte delle farmacie è su base volontaria. Auspico una massiccia adesione da parte dei colleghi al protocollo d'intesa e li ringrazio per essersi resi disponibili alle richieste delle istituzioni nell'interesse della collettività, confermando il ruolo della farmacia quale primo presidio sanitario di prossimità integrato al Servizio Sanitario Nazionale, ha dichiarato il Presidente di Federfarma Marco Cossolo. Aderire al prezzo massimo di vendita concordato per le mascherine FFP2 è un ulteriore servizio che rientra pieno nell'evoluzione del nuovo modello di farmacia, una farmacia che non ha paura di cambiare perché è consapevole di essere un tassello fondamentale nel processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria, primo anello di congiunzione tra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale. Mercoledì 5 gennaio in Sicilia il record di contagi, la zona arancione, sembra inevitabile. Intanto la regione ha uniformato il proprio calendario didattico a quello delle altre regioni italiane. Continua a crescere esponenzialmente il contagio da Covid-19 in Sicilia e dopo solo una settimana di zona gialla è probabile il cambio in quella arancione, lunedì prossimo o la settimana dopo. Con questa tendenza di contagi la zona arancione sarà inevitabile e dobbiamo allungare più possibile la permanenza in zona gialla, conferma il governatore nello Musumeci. I numeri parlano chiaro, 2.000 positivi in più rispetto all'ultima rilevazione. Scende però il tasso di positività dal 17 all'11%, 40 le vittime. Anche i dati alla Genes sui ricoveri negli ospedali di pazienti Covid con sintomi sono sconfortanti. In Sicilia il tasso di occupazione di posti letto ha raggiunto il 24% rispetto al 19% della media nazionale. A Palermo il 70% dei ricoverati non è vaccinato. Il paradosso, osserva Musumeci, è che queste persone chiedono di non essere curate perché negano persino l'esistenza del contagio. Rifiutano le cure mediche. Questo è un dato davvero allarmante. Dobbiamo non solo lavorare per curare quelli che sono vaccinati con sintomatologie assolutamente lieve, ma dobbiamo convincere i Novax a farsi curare e diventa più problematico. Intanto, nonostante i contagi, le scuole riapriranno in Sicilia lunedì prossimo, 10 gennaio. Lo ha deciso, d'intesa con Musumeci e con il DASOE dell'assessorato alla salute e l'assessorato all'istruzione e formazione professionale. Abbiamo preso questa decisione, spiega l'assessore Roberto Lagalla, in seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni, in esito alla quale è emerso all'esigenza di acquisire uno specifico parere del CTS nazionale che, in relazione all'andamento della pandemia, sia in condizioni di escludere una possibile ed eventuale ricaduta negativa sulla riapertura degli istituti scolastici. Alla luce dell'attuale quadro epidemiologico, aggiunge Lagalla, durante la riunione è stata fatta presente anche l'esigenza di una revisione delle procedure di tracciamento dei contatti scolastici, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli sanitari e di gestione delle quarantene. La Regione siciliana, nel condividere la posizione dei rappresentanti regionali e in attesa del parere richiesto al CTS, ha perciò ritenuto di uniformare il proprio calendario didattico a quello delle altre Regioni italiane. Il provvedimento riguarda in Sicilia le scuole di ogni ordine e grado, i corsi di formazione professionale in obbligo scolastico e le fondazioni TS. Combattere la variante Omicron attraverso la terza dose di vaccino è fondamentale per ordinare ospedalizzazioni e forme gravi di Covid, causate da un aumento esponenziale di positivi, a causa di questa nuova forma estremamente contagiosa. Ne parla Antonio Cascio, direttore dell'Unità Operativa Complessa di malattie infettive alla Policlinico di Palermo. La variante Omicron continua a mordere, i contagi in Sicilia sono in ulteriore aumento, ma come siamo messi a livello di ospedalizzazioni, come sta andando questa quasi imprevista ed esponenziale crescita di contagi? Sì, purtroppo appunto come ha detto lei i casi di persone positive aumentano in maniera vertiginosa e stanno aumentando piano piano pure i ricoveri ospedalieri, quindi c'è una pressione negli ospedali, ci sono tante persone a casa che giustamente o ingiustamente hanno paura perché si sono positivizzate e magari temono di potersi aggravare. Quindi una situazione abbastanza complessa. I casi continueranno ad aumentare nei prossimi giorni. Speriamo, come è un po' successo in Sudafrica, che tra 15-20 giorni potranno ridursi, speriamo in maniera drastica, ma questo lo possiamo solo vedere appunto tra 15 giorni. Nel frattempo è importante ricordare che la terza dose protegge da questa infezione che è fortunatamente di per sé meno grave rispetto alla variante Delta. Quindi siamo relativamente ottimisti. Siamo ottimisti perché questa infezione è meno grave della variante Delta, siamo ottimisti perché tante persone si sono vaccinate, siamo un po' meno ottimisti per il fatto che tante persone ancora non hanno fatto la terza dose e ancora c'è uno zocculo duro di persone addirittura non vaccinate. Ecco, proprio riguardo i non vaccinati, sembra che ormai è conclamato il fatto che sono davvero esposti. Sì, diciamo il virus colpirà più o meno tutti, nel senso che è altamente diffusivo e contagioso. Quindi quando ci troverà vaccinati tutto andrà bene in linea di massima, se non siamo vaccinati allora potremo rischiare. Bisogna ricordare inoltre che le persone anziane, pur essendo vaccinate, potrebbero non aver risposto bene al vaccino. Quindi io raccomando sempre alle persone anziane, dopo aver fatto la seconda dose, anche la terza dose, dopo 15-20 giorni dall'ultima dose, di fare la ricerca degli anticorpi contro il coronavirus. E se non dovessero essere presenti gli anticorpi, queste persone devono stare ancora più attente, perché sono persone fragili che, anche se la variante Omicron appunto è meno cattiva, meno patogena, però lo stesso potrebbero avere una infezione di una certa gravità. Giovedì 6, Covid e variante Omicron. Tante le cene annullate per scetticismo, soprattutto in occasione del Capodanno. Il presidente Fipe Antonio Cottone traccia un bilancio sui danni economici, pratici e psicologici che questa pandemia continua ad arrecare al mondo della ristorazione. Non è andato assolutamente come programmato, è anche in piena corsa, quindi il 24, sono uscite fuori le ulteriori restrizioni che hanno portato a tanti annullamenti per il Capodanno e quindi molti di noi si sono trovati costretti a fare un bilancio, se valesse la mera o meno, di festeggiare il Capodanno e il Cenone e hanno dovuto addirittura annullare. Noi nello specifico abbiamo dovuto annullare in due sedi, ma tanti e tanti i nostri colleghi hanno seguito la nostra stessa linea e hanno dovuto chiudere. Chi lo ha fatto, lo ha fatto nell'assoluto rispetto delle regole, ma con numeri assolutamente risicati, perché poi ovviamente non ci si poteva alzare per ballare, si poteva fare solo la cena. Tutto questo di riflesso anche durante i 15 giorni precedenti, che invece sono sempre stati un tocca sana per l'economia della ristorazione, perché tra le cene sociali e le cene di famiglia c'erano le classiche tavolate, ma che sono venute a mancare e quindi hanno anche fatto perdere un'altra fetta di fatturato. Il passaggio gialla, zona gialla, praticamente cambia poco. In Sicilia l'ordinanza regionale già ci imponeva l'utilizzo della mascherina anche all'aperto e questo quindi è cambiato poco. In zona arancione dovremmo limitare il numero dei tavoli e quindi dei commensali all'interno del tavolo si limiterebbe a 4 o più, solo se congiunti o familiari. Questo ovviamente oltre al danno tecnico e pratico è anche un danno psicologico, perché la gente ovviamente, come già succede, ha anche poca empatia e poca volontà di andare in giro, di andare fuori, di andare a cenare, di andare a rilassarsi perché comunque questa variante, che è molto più contagiosa, sta prendendo notevolmente campo. È stato un problema anche di scetticismo da parte della gente di voler proprio festeggiare, di voler frequentare i luoghi particolarmente frequentati, scusate il gioco di parole, ma è proprio così, nel senso che anche i spazi all'aperto hanno visto una poca affluenza di pubblico. Per il turismo sarà ancora un anno di passione. Questo è il report di Scala International Palermo per il 2022. L'economia del turismo va tutelata nell'ambito di una strategia complessiva di garanzie e tutela nei confronti dei consumatori e delle imprese. Per il turismo, nonostante speranza e ottimismo, sarà ancora un anno di passione, in cui il settore sarà alimentato dal turismo interno, mentre si allontana la prospettiva di ripresa dei flussi internazionali. A dirlo è Toti, Piscopo, presidente dello Scala International Palermo, l'organizzazione professionale a livello mondiale di leaders del turismo che promuovono il turismo e l'amicizia globale, riunitosi pochi giorni fa. È chiaro che siamo molto lontani da quello che riguarda recuperare i flussi del turismo internazionale, però torno a dire, siccome tutta la filiera turistica, così come tutto il Paese, ha necessità praticamente di riprendere dei ritmi di normalità, che fanno parte anche dell'economia del Paese, dico, credo, e noi dall'altra parte abbiamo la necessità di godere di un minimo di serenità, allora impariamo a convivere in un rapporto di assoluta e totale e piena sicurezza, ovviamente della consapevolezza che ormai la nostra agenda è scritta dal virus e non da noi. Dalle parole ai fatti, il riferimento di Piscopo risale allo scorso 27 settembre a Travel Expo Borsa Globale dei Turismi, in occasione della giornata mondiale del turismo, quando lo SCAL International Palermo elaborò e presentò il documento il coraggio di agire per vivere e non sopravvivere, successivamente condiviso e fatto proprio dal Lions International, che ora ha deciso di scendere in campo a fianco dei comuni siciliani. Con i Lions siciliani, ha sottolineato ancora Piscopo, abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con l'Anci Sicilia, per affiancare i comuni in azioni mirate di sviluppo turistico, con una forte valenza sociale e solidale, ma dall'indubbia ricaduta economica sui territori. Per il 2022 l'auspice è superare l'emergenza sanitaria, convivere con il virus e rimodulare le nostre vite a un livello di flessibilità che consenta di dare ossigeno alle imprese e alla vita di ognuno di noi. Verdi 7 gennaio, Covid nella Sicilia in zona gialla, scuola aperte da domani in zona arancione e rossa, si può anche in DAD. Il confronto tra il presidente Anello Musumeci e gli assessori regionali all'istruzione Roberto Lagalla e alla salute Ruggero Razza. Le misure urgenti proposte dal Governo nazionale per il tracciamento dei contagi da Covid-19 nella popolazione scolastica prevedono approcci differenziati in relazione al numero degli studenti positivi alla tipologia del ciclo educativo e allo stato vaccinale dei singoli. A questi è necessario attenersi in Sicilia, infatti le norme vigenti consentano alle regioni di intervenire con decisioni autonome solo nel caso di zona arancione o zona rossa. La Sicilia, come si sa nella fase attuale, è in zona gialla, quindi deve applicare le norme nazionali. Pertanto si impone di alzare l'asticella dei controlli nel pieno rispetto delle regole generali di cautela, a partire dalla didattica a distanza nel caso di soggetti positivi nella scuola primaria e di seguire le regole della sorveglianza sanitaria negli altri casi. Il Governo della Regione siciliana conferma di operare secondo le disposizioni del Governo nazionale con l'obiettivo di garantire lo svolgimento e le attività didattiche in presenza e in sicurezza a partire dal lunedì 10 gennaio. Faranno eccezione, nel rispetto delle prerogative regionali, le zone ad alta densità di contagi, dichiarate con ordinanza del Presidente della Regione, tenuto conto dell'andamento della pandemia, per le quali è prevista la facoltà di procedere con la DAD, previo ordinanza del Sindaco, e sul conforme parere dell'autorità sanitaria. Diritto allo studio e diritto alla salute sono entrambi incomprimibili e vanno assicurati nel rispetto dei più giovani. La variante Omicron sta mettendo in serie difficoltà il sistema sanitario siciliano. Il picco dei contagi dovrebbe essere raggiunto intorno a metà gennaio, ma si teme per le ulteriori ospedalizzazioni nelle settimane a seguire che potrebbero arrivare in seguito all'alto numero di positivi. La considerazione che va fatta è che sembrerebbe che ci sia stata una grossa impreparazione da parte delle strutture ospedaliere, o meglio non tanto delle strutture ospedaliere coinvolte, quanto più dall'organizzazione del sistema regionale. Ricordiamo che in questo momento il numero di positivi è certamente altissimo, è più alto di tutti, della storia di questa pandemia, per l'arrivo di una variante Omicron, ma in termini di numeri assoluti, come occupazione ospedaliera, siamo all'incirca della metà rispetto al massimo che abbiamo raggiunto nella precedente ondata, perché in questo momento ci sono poco più di 100 pazienti in terapia intensiva, abbiamo raggiunto in passato un numero pari a 200-220. Questo probabilmente è legato all'impostazione organizzativa che è stata data in questo momento, per cui si sono mantenuti come ospedali hub solo pochi ospedali. A Palermo ha segnatamente il cervello, che è quello dove c'è stata ieri la protesta delle autoambulanze in fila. E questo sta mettendo in difficoltà. In realtà bisognerebbe pensare a una organizzazione del sistema sanitario diversa, cosa che ancora non è stato fatto, e probabilmente, e questo lo diciamo da anni, lo dicono tutti da anni, anche a pensare di aumentare e potenziare l'offerta sanitaria nella nostra regione. È un passo che va fatto, altrimenti ci troveremo sempre in difficoltà. Questa variante Omicron, quando arriverà al picco, quando cominceremo a vedere, in base chiaramente a quello che si potrebbe ipotizzare, una diminuzione dei casi, dei positivi? Allora, questa variante Omicron ha caratteristiche statistiche diverse rispetto alle altre, perché è molto più rapida rispetto alle altre. Questo rende più complicato fare le stime, perché se le altre avevano un tempo di propagazione all'ordine di 5-6 giorni, quindi i grafici erano tutti molto più dolci, diciamo così, in termini di variazione. Questa ha un tempo di propagazione all'ordine di 1-2 giorni. Bisognerebbe fare dei rilevamenti con frequenze di ore, non di giorni. Però, occhio e croce, considerato il numero dei positivi che abbiamo a oggi, cioè variamo su quelli che scopriamo a 200 mila al giorno. Probabilmente sono un milione al giorno se andassimo a testare tutta la popolazione. Diciamo che non ha molto più spazio. Io penso che per la settimana prossima, al massimo entro 10 giorni, raggiungiamo il picco. Ho sempre pensato che il picco si raggiunga intorno al 12-13 della settimana prossima, quindi giovedì. E poi voglio chiederle anche questo, in base sempre alla sua esperienza. Dico, a quel punto potremmo vedere, diciamo, come è stato raggiunto il picco in modo così veloce, immediato, una discesa consistente dei positivi, o sarà una cosa lenta, a suo punto di vista? No, la discesa dovrebbe essere rapida. In Sudafrica la discesa è stata rapida, in Regno Unito sta cominciando ad iniziare la discesa ed è pure abbastanza rapida. Quindi dovrebbe essere anche più rapida rispetto alle altre ondate. Cioè, più rapida la sedita, più rapida la discesa. Ieri sabato, 8 gennaio, anche in Sicilia, domani riapriranno le scuole. Una decisione contestata dagli amministratori locali, visto l'alto numero di contagi causati nell'isola dalla variante Omicron. Fa discutere la decisione del Governo nazionale che prevede la riapertura delle scuole già da lunedì 10, una presa di posizione contestata da più parti a causa dell'alto numero di contagi in Italia causati dalla variante Omicron. Una situazione critica che ha causato grosse difficoltà anche in più ospedali in Sicilia, visto l'aumento dei ricoveri. Dura la presa di posizione riguardo la riapertura delle scuole in presenza da parte di Loluco Orlando, presidente Anci Sicilia. In riferimento alla disposta ripresa delle elezioni in presenza a partire dal lunedì 10 gennaio, considerato che una percentuale elevatissima di positivi viene individuata tra i cittadini in età scolare e soprattutto tra i minori non vaccinati, di fronte allo stress delle strutture ospedaliere, alle file di ambulanze davanti ai nosocomi cittadini, alla mancanza di mascherine FFP2, riaprire le scuole in presenza già a partire dal lunedì è un atto irresponsabile. Lo ha affermato il sindaco della città metropolitana di Palermo, Loluco Orlando. Faccio appello, ha aggiunto il sindaco al governo nazionale e regionale affinché possano rinviare l'apertura delle scuole in presenza e istituire invece la DAD a tutela della salute di tutta la comunità scolastica. Le aspe provinciali inoltre sono in grave ritardo con i tracciamenti e con le verifiche dei tamponi. Ciò non consente di avere dati certi sui positivi. Ritengo che un'apertura debba prevedere sicurezza per alunni e familiari, fortemente e unanimamente preoccupati per il dilagare dei contagi. Orlando infine ha richiamato il governo nazionale affinché estenda l'obbligo vaccinale perché non è più una scelta ma un atto urgente. Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha disposto un'ordinanza per la didattica a distanza. Abbiamo numeri da zona rossa, ha affermato il primo cittadino, che ha annunciato che per due settimane ancora le scuole dovranno rimanere chiuse, un provvedimento che probabilmente verrà impugnato dal governo nazionale che a quanto sembra sulla riapertura delle scuole non intende indietreggiare. Bare in sepolta al cimitero del Rotoli indagato dalla procura di Palermo, il sindaco Leo Luca Orlando. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, risulterebbe indagato dalla procura per omissione di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle bare in sepolte, quasi 900, al cimitero del Rotoli. La notizia è riportata dall'edizione locale della Repubblica. Già due anni fa il primo cittadino era stato convocato come testimone informato dei fatti, ricevendo a dicembre un avviso di proroga dell'inchiesta. Orlando avrebbe già chiesti ai magistrati tramite il suo legale, l'avvocato Roberto Mangano, di essere ascoltato per esporre la linea di difesa. L'audizione avverrà nei prossimi giorni. La vicenda della mancata tumulazione dei feri tritiene Banca Palermo da anni, prima con una vicenda di mazzette che convolse l'ex direttore del cimitero del Rotoli, Cosimo del Roberto, c'è la richiesta di giudizio per dieci indagati, poi le bare che giacevano nei magazzini per settimane e mesi, poi perché le casse con i defunti scoppiavano o lasciavano cadere liquidi. Il forno crematorio è guasto da quasi due anni. I familiari dei defunti da tempo denunciano lo scandalo e lo scorso novembre anche l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, aveva sottolineato il dramma che vivono migliaia di persone che non possono seppellire i propri cari. A commentare la notizia i consiglieri comunali della Lega. Sono stato uno tra i primi dichiara Igor Gelarda a denunciare in procura questa situazione con un esposto oltre un anno fa. Sono contento che la magistratura abbia deciso di approfondire e verificare se ci siano responsabilità penali da parte di questa amministrazione comunale. Quello che vogliamo noi è comunque la soluzione definitiva al problema e in tal senso ci siamo mossi con un emendamento grazie al quale sono stati stanziati 2 milioni di euro per risolvere almeno in parte il problema con l'acquisto di un migliaio di loculi. Ci auguriamo che la magistratura possa fare luce quanto prima su questa triste situazione. Ogni giorno di più con questa giunta alla guida della città dichiara Marianna Caoronia è un giorno in più di problemi non risolti ma anzi aggravati dall'arroganza e dall'incompetenza. Ai colleghi alle forze politiche di opposizione che non hanno voluto mandarli a casa in anticipo con la mozione di sfiducia firmata dalla Lega e pochi altri chiediamo se ancora oggi siano pronti a sostenere che quella mozione fosse sbagliata e chiediamo loro cosa abbiano guadagnato la città e i palermitani con questi ultimi e lenti mesi di agonia del regno di Leo Luca Orlando. Ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro una buona domenica arrivederci. Grazie a tutti